UUUUUUUU Andrei! Come abbiamo fatto? Questa non l'ho capito! Com'è quella di... Com'è quella di Angio prima? Lui è spaltato e tu... Però Marmitone è morto! Ehi! Lo cambiamo, prego! Io no! Eh Marmitone, però se quando devi correre sei veloce come la luce! Eh ma non li prendo! Porco Dio! Porco Dio! Porca Troia! Edda! Oddio che t'ho fatto! Un bambino di sei anni! Un bambino di sei anni! In testa! Un bambino! Sei un bambino!